E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRK01 e oggi siamo al ventunesimo episodio di Pokémon Smeralda Randomizer e andiamo subito ragazzuoli! Ok ragazzi, siamo qui Allora Curiamo i Pokémon perché non mi ricordo se eravamo già curati ragazzi Pi 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 E devo anche cambiare una cosa, è giusto spiato Ok, allora Siccome ora dobbiamo fare la palestra pazzutta Mettiamo Ispion a posto di Phibas Che questo Phibas ci servirà soltanto per surf ragazzi Ok Allora Verde a Verde a Zupoli Come ragazzi il nome? Verde a Zupoli Ok Ma intanto vediamo un po' se possiamo comprare un po' di superpozioni, robe del genere Abbiamo soltanto la iperpozione qua 40 iperpozioni Comprano 14 dai Realizzanti gottici no Ok comprado un altro po' ragazzi Ok Ah Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapilupiree Ma intanto diamano un po' la, la City Oh che è sta roba? Se posso costruire quale gioco vuoi che ti descrivo Ma di cosa ragazzi Ah ma wire Ah ok Niente niente Wireless Allora Qui Oh bella sta città posso dirlo Il tuo registro Ma tu è pochiamella blu giusto Anzi non ho dubbi Sicuramente sarà un patito Della pochiamella blu Ammazza ragazzi Io ancora non ho capito cosa cazzo Servono le poche melle però in questo gioco Qua non c'è nessuno Ultima casa Ok A mio fratello Più piccolo piace scovare le basi segrete Degli altri Sto 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 Ti mi sei chiaro Una base segreta a qualche parte Così io te la scopo Ma che cazzo Non mi creo niente Quello mi vuole stalkerare ragazzi Ok ma io direi di fare questa Palestra ragazzoli Che è palestra proprio di Verda Zopule Capopalestra Tel e pat ragazzi Ok Ok Perché ci stanno Roba strana Oddio Vai Ma rap Signori Ma rap A livello 36 Vabbè ci avrei gestire dal 37 Vai Oh cazzo Vai con forza Oh merda Prendolo statico Ovviamente Buono shock Schermo luce Ma fatto ragazzi Beh un'altra forza Ragazzi Va a dormire Buono shock E addio marip Addio marip Mare Marepposo Vai Intanto registro Il mio sabiello 38 Sì signori E fatto questo Ok Ok Ah cazzo Vado a fare La lotte in doppio Ragazzi Ok Ho capito Ho capito Ho capito Perfetto Allora ci mette Spoint Magivelo Ok Cazzo Poi ci usiamo Aggi vero Come sempre Ah sono confuso E paralizzato Ok ok Va bene Va bene Ok perfetto Vai conferarti Signor Registil E addio Spoint E bravo Signor Registil Ragazzi Operato Ok Quindi Devo andare qua Penso sì Quindi se io Giro questo Ah vedi L'ottia in doppio Ragazzi Vedete Vedete Belle Belle L'ottia in doppio Zipira Mi piace tantissimo Vai Andiamo Andiamo ragazzi Andiamo a rompere Il ziderino Andiamo a rompere Il ziderino Ragazzi Ok Allora Per artigli Attacco rapido Abbiamo Abbiamo Cosa usato Cosa usato Ecco Ecco Se usare L'ipo Cazzo Ammazzi Ok amnesia Va bene Va benissimo Va benissimo Signori Va benissimo Registil Paralizzato Non va bene Più un cazzo Ragazzi E' nato Il veleno Il veleno Su blanzi Che ne fa effetto Ancora amnesia Adesso ci Buiamo un po' D'acqua Ragazzuoli Vi ricordo Se stai guardando Il video Ricordarvi di bene Ok Oh Blanzi Nivelo 36 Signori Calciardente Bello 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 Calciardente Vediamo un bracere Va Vediamo un bracere Vediamo un bracere Calciardente Signori Ok vai E andiamo avanti Andiamo avanti Ragazzuoli Blanzi Penso che morirà In questa Cosa diciamo Allora Destra Ok Un'altra lotta in doppio Mi sa sempre La lotta in doppio Ragazzuoli Comunque Penso siamo sempre Una lotta in doppio Penso Cioè Penso pure La fine La fine Da capopalestra Perché ci stanno Due persone Quindi è sempre L'otta in doppio Penso Suablu e orsi E Blanzi Ragazzi Ci ha detto Addio Vai venus Auro Per artigli E foglie Lama Riduttore Suablu Seriamente Vai con foglie Lama Che Dove Uccide Tutte e due Penso Intanto ho deciso Orsia E suablu Metà vita Vero male Anzi Più della metà Ma gli ha tolto Ma come Ferartigli Fallisce Zio però Nebbia Mossa Utilissima Ragazzi Mossa strepitosa Vai Addio Suablu Grande Venusauro Messo al momento Giusto Signori Perfetto Ah siccome Ho morto Blaziken Io metterei Proprio Venusauro Come secondo Signori Signori Bellissimi Quindi Mettiamo Venusauro Secondo Oh poi Dove Fare Tipo Ok Così Facciamo Un'altra Lotta In doppio Ragazzi Che Questa Palestra Mi piace Tantissimo Penso sia Proprio La mia Palestra Preferita Ragazzi Vai Onyx E Pori Con Due Allora io Direi Di Fare Ferartigli E Poi Le Lama Come Sempre Queste Mossi Bellissime Signori Poi Le Lama Onyx Ok Brutto Colpo Pure Ragazzi Onyx Ne Attacco Bene Va bene Attacchiamo Soltanto Onyx Per ora Tripletta Regà È Bella Tripletta È una Bella Mossa Signori Tripletta È una Bella Mossa Ragazzi Infatti Mi ha Mandato A Fanculo Venusa In un Modo Proprio Incredibile Vai con Lancia Fiamme C'è la Rezard Eh ragazzi Tripletta Toglie Tanto Dai Con Ferartigli Quanto Sono Bene Le otto In Doppio Localizza Vai C'è la Rezard Vai 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 Fratello Non è Torto Nulla Ragazzi Va bene Proviamo Ancora Vai Charizard Oh ragazzi Provo con Attacco Dalla Perché Siccome Ok Ma non ci credo Uno di vita Bravo Bravo Registil È pure la coppia Registil Del Charizard Raga Penso che con Registil Tutti vanno Bene Ok Vai Ci siamo Ci siamo Ma sotto Che è Ah no Torni nel punto Di partenza Penso Quindi penso Di andare Di qua No Mi sa Era Dove andare Proprio da là Ragazzi Mi sa Ok Qua sotto Vai Ah Ok Eccolo Ho capito Ho capito Ho capito Io ora Faccio così Poi Poi Vado Di qua No Come faccio Andare Là Ragazzi Aspettate Ah Sarà La parte Sarà La parte Sinistra Forse Ah Ecco Vedi Ok Un'altra Lotte In doppio Let's go Mi mancava Mi mancava Qualcosa Mi mancava Qualcosina Infatti Quanto è lunga Questa palestra Ragazzi Non mi ricordavo Così lunghina Bubasaur E Polited Allora Li ho uccisi Ragazzi Comunque Mi è andata Anche Un attimo A curare Allora Andate qua E andiamo Di qua Ok Facciamo questa Lotta In doppio Signore E poi Devo calcolare Lì Come fare Quella cosa Alla strana Ragazzi Vediamo Un attimo Vediamo Un attimo Allora Sconfiggo Al volo Questi due Ragazzi Nido King Bellissimo Ok Allora Ragazzi Vediamo Un po' Come fare Ok Ok Ma io dovevi passare No Uno passa così E l'altro Passa così Ok No Perché mai così No ragazzi Non ditemi Comunque Cosa è successo Dall'altra parte Ok Che cosa Era successo Signori Oh Vabbè Non lo so Qua Ritorniamo Qua sopra Andiamo Di qua Ok 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 Vediamo un po' Se è così Ragazzi Sì Ed ecco qua Signori Ed ecco qua Ed ecco qua Ed eccoci qua Non ti aspettavi Non ti aspettavi Di trovare Due capi palestra Di trovare Due capi palestra Siamo gemelli Siamo gemelli Non abbiamo bisogno Di parlarci Perché ognuno di noi Legge nel pensiero E l'altro E tutto Nei nostri menti Siamo molto Affiatati Vediamo se riesci A batterci Andiamo ragazzi Battiamo questi due Gemellini Bellini Vai Ondore Shackle Livello 41 Regà Livello 41 Sono molto Dislivello Diciamo Non sono livellato Abbastanza Signori Ho sempre Ferretti Io Facciamo Morso Va bene Cazzo Quanto toglie Poglie lama Entrambi Signori Ok Non abbiamo fatto Purtroppo nulla Le sciaccole Via d'attacco Pazienza Attenzione Pazienza Ragazzi Non per cazzo Quindi direi Di Proprio Togliero subito Pazienza Quindi Parassi Se me Troppo Forte Ok Top Ragazzi Ok Sì Che difesa Cale Tutto Però Va bene Va bene Così Va bene Così Pazienza Ragazzi Toglieva Tantissimo Se mi ricordo Deve aspettare Tre turni Per attaccare Con pazienza Vero ragazzi O Il turno Dopo Vabbè Tanto Me lo uccidiamo Penso Ok Buono Ragazzi Così Non fa Pazienza Meno male Che mi sono Focalizzato Su di lui Se no Mi faceva Tutta la squadra Con pazienza Fidatevi Venonat Ok Ho un Durcifà Finta Signori E noi Facciamo Un bel Foglielama E ora Però Registil Subisce Tanto Perché Ovviamente Non ha Non ha Come si Chiama Ragazzi Io direi Una bella Forza Antica A lui E Ve le Inpolve Hai un Forza Antica Ok Realizzante Oddio Che lotta Ragazzi Che lotta Sontuosa Morso Non far Tentennare Te prea favore Ve le Inpolvere Fallisce Va bene Ok Signori Il nostro Registil È andato Via Farà Sì Ma bene Non ha Tanto Messo E Dacce Ok Ok Venonet È morto Grazie Al parassi Seme Ha Un Ter Signori Ha Un Ter Al 42 Parassi Seme Ombra Notturna Cazzarola Ragazzi Ho Venusa Che sta Giocando Contro Il livello 42 Venusa Stal 34 Signori Qua è Tanta Roba Eh Però Sto Zaptos Mesa Tra poco Lo 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 Devo Curare Zaptos Famo Curare Ragazzi Sì ok Che Ho Anche Blaz Che Nei Spione C'ha Rizzarda Però Ho Un Durmorso Va Bene Mangia Sogni Meno male Che L'ho Curato Ragazzi Che sogno Stai Facendo Signor Zaptos Eh Zaptos Che sogno Stai Facendo Ragazzi Addio Venus Auro Intanto Da che Ci stiamo Per fare Da che Ci stiamo Per fare Allora Io direi Un bel Culture Dente Ad Hunter Ragazzi Iper Pozione Che Palle Sto Hondur Lo stanno A cura Tantissimo Vi giuro Vai Calciardente Ok Ok Hunter Ragazzi Sta per Morire Oc Pogolai Usiamo Un attimo Su Hunter Oddio Aspetta È morto Hunter Da solo Grande Parassi Semi Di Venus E Mo E Mo Ragazzi E Mo Gli Un tono Il culo Ad Hunter Sperando Che non Muore Zap Tossura Ok Calciardente Vai Mamma mia Era così Si blazica Nivelo 36 Signori Signori E battuti Battuti Ragazzi Perfetto Perfetto Ricevi medaglia Menti Da Tele Pat Medagliamento Medagliamento Potenzia Attacco Speciale Di beta Speciale Ti permette Anche di usare MN Sub Fuori dalla Lotta Prendi anche Questo MN Sub Ragazzi Ci da No Ah no Calmamente Ok Ok Signori Registrazione Ok Direi molto Easy Dove si Prende La MN Sub Ma ce l'ho Ragazzi No Dove si Prende Sub Ragazzi Non lo Ti viene Commenti Per favore Allora Ragazzi Spero Che questo Video Vi sia Piaciuto Mi raccomando Di venire Dove Si trova La MN Sub MTSub Che non Ma Ricordo Ragazzi Comunque Spero Che vi Si Piaciuto Lasciate Like Commentate Iscrivetevi E ci vediamo Alla Prossima Ciao Belli Ciao